Ciao, mi sono Francesco Cerbi, voglio invitarvi tutti l'8 settembre a Brescia per un grande evento Lotto per l'amore, organizzato da Team Etolus Love, c'è una musica, spettacolo, ma tanta tanta solidarietà. Quest'anno puntiamo il cuore e aiutiamo l'associazione Bambini Cardiopatici nel mondo. Vi aspetto numerosi l'8 settembre a Brescia. Un grosso abbraccio, ciao! Brescia per un grande evento